E salve a tutti ragazzi bentornati qui su Tekken 7 Era da un bel po' che ne ve lo portavo vero? Quindi andiamo subito avanti ragazzi Ok primo round Vediamo con chi combatto va Zero vittorie Sembra un po' strano eh questo qua zero vittorie Eccoci qua Kazuya contro Imbroglione Allora sei un broglione tu Cosa fai? Aia aia O forse perché sono abbassato di rango Per quello c'è un avversario abbastanza debole Però non mi sembra così debole Mi sta pure battendo Potrei dire che ho avuto fortuna? Insieme Super combo No Allora Andiamoci da fare Aia No ho sbagliato No Mannaggia ancora mi sbaglio con le mosse E questo è fatale per me Se faccio questi errori Nelle partite veramente Elevati Posso pure perdere il duello Ah ragazzi ma c'ho Un po' di ritardo eh Eh sì c'è un po' di ritardo nel joystick Non so che è successo Non so che è successo Lago un pochettino No perché vai così Niente Bello la mappa Così vero? Mi piace? Ahia Oh No Mi avendo Oh bello Così Felici tu Olè Super vittoria Sì 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 Perché io ho tutto la luce pure Vero? Però bello Così Ahia Mi siamo affatto male Olè Winner Chiudo a tomba Doria 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 E abbiamo vinto ragazzi 2-0 Doria Doria Ok Ho ricollegato Il mouse E mouse Bene ragazzi ho ricollegato nuovamente il joystick Perché mi stava dando dei problemi Quindi non volevo Avere problemi nel duello Questi passi qua ragazzi Veloci Voi come fate A farli perfettamente? Io mi sbaglio tre volte New challenge Ok Che due labi inizio ragazzi Con Sembra forte 557 vittorie Non male Mamma mia Siamo bene Ma è gettio Vero? Sì Eccolo È mio Ah non l'ha preso Ahia Oh Oh No mi ha preso È bravo eh È bravo Come vi è? Ho fatto tante vittorie È forte Molto forte Ahia No Queste prese Non so prevedere le sue mosse Troppo veloce Bene Oh Stai calmo Ciccio Mamma mia Queste prese Bello Ci riesce sempre Eh Beccate sto cazzottone Ahia 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 Ma ha fatto male È pericoloso Managgia No È bravissimo Vatti sotto Vai Brozzoli Stai calmo Eh beccati Questo piede In faccia No Mannaggia Sì Sì Aia Beccati cazzottone Ah no Mannaggia Non ci voleva No 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 Sbagliato Mi sono pure incastrato Dai su Beghe te sto calcio Hai troppo tardi Non lagare Che insieme Sta lagando ragazzi Quando laga non promette niente di buono E vai così Abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto quindi è andata benissimo Andiamo se la versiamo alla rivincita Si C'è la rivincita attenzione Niente Che è andato lui bene Ho sbagliato Aspettato No No Non ci credo Mi sa che le pago Le ho pagate No No Che mi succede No Dai Non ci credo Che bella è presa queste qua Solamente che non riesco a mezzo a zeccarle Sti lag che non mi aiutano nemmeno Quando è brutto giocare così Si sta bloccando Ma niente da fare È andata malissima Dai è andata malissima Io ragazzi questa volta Farò una bella rivincita Non è possibile Troppe lag che c'erano No No Ma che succede Si blocca Non riesco a giocare Non riesco a fare niente Non riesco a giocare bene Nella Qua sono io che sto lagando Adesso che l'avevo preso dai Eh beccate sto pugno No Dai Sti lag non mi fa fare niente Cioè Oh mi sto parando E non mi fa parare Dai Dai vado giù Come fai a non prendermelo Viene dire che con questi lag Faccio fatica Non è che sono già Però Però Giocare con i lag Non è che aiuta tanto Dai Perché Perché fai queste mosse qua Che non faccio Niente Ho perso ragazzi Va bene così Basta Mi arrendono Niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo sempre Di iscrivervi al canale Se l'avete ancora fatto Mi raccomando ragazzi Seguite anche su Twitch Che presto faremo delle live E aggiungetemi anche su Discord Detto questo ragazzi Noi ci beccheremo Nel prossimo video Anche su Tekken 7 Ciao